Vabbè io sono venuto qui, è un bello spettacolo fatto bene, troppo se non dovrebbero fare di questo, ma io sono venuto per il mio carissimo amico Loris che non ci mettevamo da 25-30 anni, mi ha chiamato l'altra sera e come te posso dire di no, come te posso dire di no. Va bene, comunque vi faccio tanti auguri per questi incontri che fate perché è una cosa bellissima, va bene? Grazie Vittorio, troppo troppo gentile Vi voglio dedicare un mix di motivetti agganciati l'uno all'altro, se vi piacciono battete le mani, se non vi piacciono battete lo stesso Vittorio, eccoci qua, Vittorio Palmacci 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 Grazie a tutti. 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 Io vi ringrazio perché a voi ancora state di fronte a me. Grazie. Ringraziamo Vittorio. Grazie a Vittorio Palmacci.